Se vedi che devi fare la curva, lì ci sono rotti i treni, e non ci sono più che c'è, e non ci siamo, per anni fa, e da ora ci siamo sistemati, ci sono all'altra una un po', ci sono solo in macchina, o piedi, o in una metforma, e ci sono più che c'è, ma non lo sapevano che è nato, però non è, io no, io perché sono capito, ma non è, o se oggi no, non c'è, è, facendo i brandini, e qui è girato l'angolo, un'altra scappata, no ma dopo lì ci riesce a arrivare, un'altra scappata, che era un filo di appartamento, e vengo qua, era un filo di appartamento, stavolta la perdono, in più l'angolo, diciamo, cioè manuella, che è arrivata in tra misura, questo dimostra che la situazione è la prima carina, la prima carina è la prima, è la prima maniera, perché no, per i furti, fai un gradino, e poi ti curi, che si capiscono a ballare il progetto e sicuramente no, è stato bello perché sono stati in un ristorante a mangiare che è la prima volta che ho fatto un vero e ho mangiato ma ho mangiato da dire e il viaggio di questo è quello che ci consente di essere fiduciosi si è mangiato carne e salata ma non è stato un ristorante che mi dava un scasso la Giuliana e il Francesco va sempre in su arriva con quella della carnetta e l'arrivo mi schifavo quando li sentivo un cazzo altro che ma è poca no carne e pulida a salata a calpaccio ma al fine come un capello